Io entro in sostegno ovviamente alla mozione del consigliere Puglisi Ghizzi ricordando che la mozione era di marzo 2018, marzo 2018 le cancellate del parco ancora non venivano chiuse durante la fascia oraria serale, diverso era per quella notturna. Comunque vabbè, piccola parentesi, ben venga che oggi come oggi questa questione almeno è stata sistemata. Ricordo però poco tempo fa, un mese fa in questa stessa aula, venne discussa una mia mozione simile che riguardava la salvaguardia di tutti i monumenti e chiese del territorio comunale e fu a malincuore fu respinta. Ci troviamo ancora oggi quindi a parlare di un ennesimo sito storico, in questo caso quasi archeologico che dovrebbe essere caro alla città di Bolzano e che però puntualmente viene preso di mira da bandali, possono essere bandali stupidini, chiamiamoli così, nel senso le bravate da ragazzini con le scritte che ne so io, viva Inter, forza quello, lei ti amo, eccetera eccetera oppure anche vandali di ben altro spessore purtroppo. Ci sono queste icone sacre all'interno della cappella che sono state censurate con scritte invece che hanno a che fare con la religione non cattolica in questo caso. A me è capitato di vedere una cosa analoga in Kosovo, visitando i monasteri del Kosovo, visitando le chiese del Kosovo, dove praticamente l'UCK, movimento terrorista albanese, entrava all'interno delle chiese, distruggeva le icone, quindi sradicava i volti degli angeli piuttosto che i volti dei santi, per puro odio religioso. Questa cosa nella nostra città, nella nostra provincia, nella nostra nazione non deve assolutamente avvenire, nella nostra Europa neanche, e spero realmente che questo palco venga riqualificato e preservato, soprattutto la cappella dei cappuccini di cui stiamo parlando. Benvenga se ci fosse un giorno un punto di ristoro all'interno del parco, mi piace moltissimo l'idea Assessore Lorenzini, mi piace veramente tanto, perché io ho partecipato ad alcune feste all'interno di questo parco negli ultimi anni, feste tra cui una era anche la festa di Babbi Natale in moto, era stata fatta qualche anno fa, e dove è andato tutto bene. Quindi feste dove a partecipare erano cittadini autoctoni, a che avevano rispetto per il luogo in cui si trovavano, finito di festeggiare, prendevano le immondizie, ripulivano e portavano via tutto. Oggi come oggi è molto difficile fare una cosa del genere, perché gli avventori del parco purtroppo sono allogeni invece che autoctoni, allogeni quindi immigrati. Penso che lo sapete benissimo tutti, penso che conoscete almeno anche solo un residente che abita nei dintorni del parco, sono cittadini di Bolzano che sono stati portati allo sfinimento per la situazione di questo parco, perché gli vengono rubate le biancherie dalle finestre o dai balconi, perché al parco dei Cappuccini sono stati molteplici gli episodi di scippi, come anche ovviamente lo spaccio, lo spaccio che viene fatto direttamente ai ragazzini delle scuole. Basta farsi un giro durante l'orario mattutino, ovvero quando i ragazzi dovrebbero essere a scuola, ma a scuola purtroppo alcuni non ci vanno e vanno all'interno del parco a consumare droghe. Quindi per una futura gestione del parco, se una volta, lei parlava prima del buon Franz Haller che appunto frequentava il parco, amava riposarsi all'interno del parco, oggi come oggi il parco dovrebbe andare a visitarlo, dovrebbe gestirlo, magari Franz Haller invece, che è un attimo più esperto nelle arti da combattimento. Comunque adesso, a parte questo, ricordo che comunque tutta la zona interessata è veramente, come possiamo dire, è veramente a rischio. Ieri sera con la Commissione Cultura, ringrazio ancora la Presidente Silvia Hofer che ha organizzato questa bellissima uscita, siamo andati a teatro, avete uno spettacolo tra l'altro bellissimo, però tutta la zona del teatro, anche quella, subisce le stesse ondate di frequentatori mal frequentatori, o frequentatori mal frequentati. E questo è un serio problema. Al teatro comunale di Bolzano si è passati da 4.000 euro per la vigilanza e la sicurezza di tre anni fa, ai 7.000 euro per la vigilanza e la sicurezza dell'anno scorso, quindi duplicato, ai 15.000 euro per la vigilanza e la sicurezza dell'anno corrente, quindi stiamo parlando del 2019. Al parco dei Capuccini, se non cambia la situazione, si arriverà a fare la stessa cosa. Adesso però, per rimanere sugli affreschi di parco dei Capuccini, perdonatemi, ma non serve praticamente a nulla restaurare gli affreschi lasciando la situazione com'è, perché dopo due giorni torna paro paro, torna uguale. So che i tecnici, non so se comunali o provinciali, stanno vagliando l'ipotesi appunto di mettere questi plexiglass, che però hanno in teoria una sorta di difetto, perché sotto il parco dei Capuccini comunque abbiamo una falda acquifera. Questa falda acquifera comunque porta in superficie umidità, umidità che passa tra gli affreschi e le vetrate qui, le future vetrate se verranno messe, quindi il plexiglass, e si creerebbe uno strato di umidità che a lungo andare arriverebbe a deteriorare gli affreschi, i manufatti. Quindi, nella mozione del mio collega Maurizio Polisi Ghizzi, si chiede unicamente di fare in modo che questi affreschi vengano preservati, tutelati. Poi la mozione lascia spazio a mille indicazioni, che sono quelle che l'ufficio cultura, in questo caso del comune di Bolzano, con i suoi archeologi, con i suoi professionisti, riuscirà poi ad applicare e metterà in pratica. Grazie.